Nel 1979 la famiglia Schwarz originaria dell'Alto Adige ha acquistato la fattoria La Magia puntando da subito sull'impiego di forme di energia sostenibile sia con un impianto solare per il riscaldamento dell'acqua calda e sia a partire dal 2008 con un impianto fotovoltaico. Nell'azienda sono organizzate degustazioni con salumi e formaggi e visite guidate alla tenuta. L'azienda possiede due ettari posti a un'altitudine di 450 metri piantumati con 130 piante di olivi di un'età di 50 anni da cui produce l'olio La Magia da cultivar frantoio, leccino e moraiolo dal colore verde brillante. All'olfatto si mostra vegetale con note di melanzana tonda e pomodoro verde. L'assaggio è pieno e avvolto da una nota di pepe nero. La fattoria La Magia si trova a Montalcino che è situato su una collina. Il territorio Montalcino si estende nel parco artistico naturale e culturale della Val d'Orcia. I primi insediamenti risalgono al tempo degli Etruschi come testimoniato dal sito archeologico di Poggio alla Civitella. Il documento più antico relativo alla città risale all'ottavo secolo e riguarda una contesa tra il vescovo di Siena e quello di Arezzo per il dominio su alcune pievi e lì intorno. Nel IX secolo il possedimento venne poi donato da Ludovico il Pio all'abbazia di Sant'Antimo. In seguito fu coinvolto nelle lotte per l'egemonia tra Firenze e Siena che caratterizzarono i secoli XIV e XV. Dopo la sconfitta contro Firenze gli esuli senesi si rifugiarono nella fortezza trecentesca e fondarono la Repubblica di Siena riparata in Montalcino che durò fino al 1559, anno in cui il borgo diventò definitivamente parte del Gran Ducato di Toscano, di Toscana. Per quanto riguarda l'enogastronomia il pane toscano è molto rinomato per la sua principale caratteristica quella di essere totalmente privo di sale. Nel 1100 durante le guerre tra Firenze e Pisa quest'ultima bloccò i traffici commerciali con l'entroterra. Di conseguenza si iniziò a produrre un pane senza sale, tradizione a tutt'oggi mantenuta dalla panificazione toscana. Questo pane insipido è molto utilizzato nelle ricette tipiche sotto forma di crostini o come protagonista di zuppe e di primi piatti tra i quali spicca la pappa al pomodoro preparata con pane raffermo, pomodori, aglio, basilico, brodo, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Città del miele ogni anno nel mese di settembre a Montalcino viene organizzata la settimana del miele dall'Asga, Apicoltori, Siena, Grosseto, Arezzo. Qui si produce l'1% del miele italiano, circa 100.000 kg. tra le varie qualità vi sono il miele millefiori, quello di acacia, di corbezzolo, efficace contro asma e raffreddore da fieno e quello di castagno che favorisce la circolazione sanguigna.